I Cantucci, conosciuti anche come Cantuccini, sono dei biscotti secchi alle mandorle di origine toscana, che solitamente vengono accompagnati da un buon bicchiere di vin santo. Oggi vediamo come prepararli in modo facile con il nostro bimbi. Ingredienti 200 g di farina 200 g di mandorle con la buccia 200 g di zucchero 2 uova 1 tuorlo d'uovo 1 cucchiaino di lievito per dolci Polverizza lo zucchero nel boccale Aziona il bimbi per 15 secondi, velocità turbo Lavora le uova Aziona il bimbi per 20 secondi, velocità 6 Unisci la farina e il lievito Aziona il bimbi per 20 secondi, velocità 7 Aggiungi le mandorle Aziona il bimbi per 10 secondi, velocità 3 Disponi l'impasto su un piano Forma dei filoncini larghi tre dita e alti un centimetro Successivamente, spennella con il tuorlo sbattuto Metti i filoncini su una teglia rivestita di carta forno E cuoci per 30 minuti a 180 gradi Al termine, lascia la teglia in forno spento per 10 minuti Una volta sfornati i filoncini, tagliali a tocchetti per sbieco E rimettili nel forno spento per altri 10-15 minuti Buon appetito e alla prossima videoricetta Se ti è piaciuta questa ricetta, clicca il pulsante Mi piace Iscriviti al mio canale YouTube Ti aggiornerò su tutte le nuove videoricette Stai su Facebook? All'indirizzo qui sotto trovi tantissime videoricette E una community di appassionati di cucina E ora, cosa vuoi preparare? Grazie a tutti